Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'ennesima tragedia che si è consumata nella nostra regione. Un elicottero del 118, infatti, nella giornata di oggi è caduto nei pressi di Campo Felice e sono morte le sei persone a bordo del velivolo. Queste sono le immagini di questo velivolo, una V139 precipitato da un'altezza di 600 metri all'interno di un canalone. Era intervenuto per uno sciatore ferito, un romano di 57 anni. Anche lui ha perso la vita nello schianto. Due delle vittime erano pensate tra i soccorritori dell'hotel Rigopiano. Come detto, morte le sei persone a bordo dell'elicottero del 118. Si tratta di Walter Bucci, 57 anni, medico rianimatore del 118 dell'ASL dell'Aquila. Davide De Carolis, tecnico dell'elisoccorso, del soccorso alpino, consigliere comunale di Santo Stefano di Sessanio. A proposito di Davide De Carolis, è uno di coloro che avevano prestato il soccorso per liberare dall'hotel Rigopiano Giampaolo Matrone nei giorni scorsi. Poi Giuseppe Serpetti, infermiere. Mario Matrella, verricellista. Gianmarco Zavoli, pilota. Come detto, l'elicottero stava trasportando Ettore Palanca, 50 anni, romano, che si era fatto male sciando, procurandosi la frattura di Tibia e Perone. Zavoli è un emiliano, Matrella pugliese, oltre all'uomo che era stato soccorso, abbiamo detto romano. Gli altri si tratta di nostri corregionali. Il responsabile del 118 dell'elisoccorso dell'Aquila, Gino Bianchi, in un'intervista a TV 2000, ha detto che al momento purtroppo non sappiamo ancora quali sono le cause dell'incidente. Siamo molto provati. Il personale di bordo era espertissimo e prudentissimo. Non riusciamo ad immaginare cosa sia successo. Il nostro elicottero, ha spiegato Bianchi, era impegnato in una missione di soccorso per un traumatizzato che si trovava sui campi da sci della stazione di Campo Felice. Il tutto è avvenuto poco prima delle ore 12. Il ferito aveva riportato un trauma agli arti inferiori e il soccorso poteva essere effettuato solo da un elicottero dotato di verricello. La squadra, ha ricordato Bianchi, era composta dal pilota, dal tecnico verricellista, appunto il tecnico del soccorso alpino, un medico e un infermiere. Dall'Aquila a Campo Felice in genere ci vogliono circa 10 minuti di tragitto in elicottero. Il paziente è stato soccorso e portato proprio a bordo del velivolo. Subito dopo la centrale operativa del 118 ha ricevuto una telefonata da un utente che sosteneva di aver visto sopra la sua testa volare un elicottero ma di aver sentito all'improvviso anche dei rumori. Da quel momento, ricorda ancora Gino Bianchi, abbiamo cercato di prendere contatti sia via radio che via telefono ma non abbiamo mai avuto risposta. Siccome il tragitto da Campo Felice conclude Bianchi all'ospedale dell'Aquila poco più di 5 minuti, non vedendolo arrivare sulla base di questa telefonata, abbiamo attivato le operazioni di ricerca e soccorso. In base ai protocolli di volo, l'equipaggio tipo di un L-ambulanza prevede la presenza a bordo di 5 o 6 persone. Si tratta di uno o due piloti, di un tecnico di bordo che svolge anche le funzioni, come vi abbiamo detto, di verricellista che avrebbe dovuto caricare di fatto l'uomo che era stato soccorso e che stava sciando proprio a Campo Felice. Si tratta di un aeromobile dotato di registratore di volo. Recuperarlo a bordo del relitto o nelle aree limitrofe all'incidente è uno degli obiettivi primari degli investigatori. La decodifica dei dati riportati nel registratore di volo, la cosiddetta scatola nera, consentirà di ricostruire nel dettaglio le fasi di volo dell'eliambulanza dal decollo fino allo schianto e le salme delle 6 persone che erano a bordo e sono morte nello schianto sono arrivate all'ospedale dell'Aquila. L'elicottero, e restiamo ancora su questo argomento, è stato fatto intervenire perché lo sciatore aveva delle fratture importanti agli arti. Ha detto Andrea Lallini a Lanza, gestore degli impianti sciistici di Campo Felice, il pilota dell'elicottero ha ritenuto che ci fossero le condizioni di sicurezza, dice ancora Lallini ed è atterrato. Sono giunte dunque all'ospedale dell'Aquila le salme delle 6 persone. come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo profondo dolore per questo elicottero precipitato oggi nella nostra regione che il Presidente della Repubblica ha definito una terra ancora una volta colpita dalla sofferenza e che vede il sacrificio dei suoi uomini impegnati generosamente in missione di soccorso. Mattarella informa un comunicato diramato proprio dal Quirinale, ha formulato sentimenti di vicinanza e partecipazione a nome di tutti gli italiani alle famiglie delle vittime, agli operatori del 118 e del soccorso alpino. Sono arrivate anche le parole del Presidente del Senato Pietro Grasso su Facebook, dunque su un social network. Il Presidente del Senato ha detto ancora una notizia terribile. In questi giorni sono vicino al dolore dei familiari, dei piloti, dei medici e dello sciatore che erano sull'elicottero. Nelle ultime settimane ha continuato ancora la seconda carica dello Stato. A causa del terremoto, del maltempo, i soccorritori hanno fatto sforzi straordinari fino a mettere a rischio la propria vita per dare aiuto in ogni circostanza. Siamo grati per il loro impegno e per il loro sforzo. Il Dipartimento della Protezione Civile anche esprime il cordoglio alle famiglie dei piloti, dei medici e dello sciatore deceduti a seguito dell'incidente. Il capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, rinnova la stima e l'apprezzamento per il ruolo e lo spirito di abnegazione che caratterizza ogni giorno il lavoro degli uomini e delle donne del Servizio Sanitario Nazionale, componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Anche le parole del primo cittadino dell'Aquila, Massimo Cialente, che a nome dell'intera Municipalità Aquilana esprime il dolore per l'assurda tragedia che vede 5 nostri operatori del 118 perdere la vita insieme con uno sciatore. Una partecipazione commossa ha proseguito Massimo Cialente, un lutto che ci vede vicini ai familiari delle vittime e alla grande famiglia dell'Asl dell'Aquila. Il capoluogo d'Abruzzo osserverà il lutto cittadino nella giornata dell'estremo saluto e delle esecue delle vittime di questa tragedia. Adesso rientriamo per sentire l'intervista al capo del soccorso alpino dell'Aquila e all'addetto, a uno degli addetti del 118. Vediamo. Evidentemente la visibilità era buona in quel momento, poi cosa è successo? Io l'ho fatto, anche la nostra centrale penso l'ha fatto presente che il nostro elicottero deve volare solo in caso di estrema urgenza. Invece oggi si trattava di una frattura di gamba? Non lo so, sì, ma una frattura di gamba sui campi da sci, bisogna che i signori gestori dei campi da sci si attrezzano con un'ambulanza e hanno il medico e portano giù questi pazienti. Non avevamo visto più o meno dove era il relitto, solamente che non è facile dopo procedere con le condizioni di visibilità che c'erano e localizzarlo. Abbiamo dovuto cercare molto per trovarlo. In quanti siete intervenuti? La pendenza è 100%, quasi 45 gradi, è vero questo dato? Guardi, è una pendenza abbastanza impegnativa, dopo sicuro in questo momento c'è una neve che sicuramente non è agevole, quindi in alcuni punti era anche difficile muoversi con gli sci da sci alpinismo in saliva. In quanti siete intervenuti? Guardi, dal momento in cui è arrivata la notizia della perdita di contatto radio del del velivolo con la sala operativa del 118, noi siamo partiti 9 militari dall'Aquila, eravamo proprio a disposizione perché in questo momento i nostri colleghi di Roccaraso sono tutti impegnati nella zona di Ricopiano, quindi come stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza dell'Aquila avevamo il compito di essere pronti a intervenire su tutta la regione Abruzzo e eravamo in 9 persone pronte a partire per qualsiasi emergenza e purtroppo siamo venuti qui dalle frammentarie notizie che c'erano perché non c'era nessuna indicazione sul luogo dove teoricamente era avvenuto l'incidente, ci siamo divisi, una macchina ha risalito la valle di Lucoli, quindi è arrivata qui al valio di Casamaina e con un altro mezzo attraverso l'autostrada siamo venuti direttamente qui sulla piana di Campo Imperatore per fare a ritroso quello che era il percorso di volo che avrebbe fatto l'elicottero per andare verso l'Aquila e purtroppo abbastanza velocemente abbiamo avuto certezza di quello che era successo. Adesso ci spostiamo purtroppo ad un'altra tragedia, quella dell'hotel Rigopiano perché salgono a 16 le vittime della slavina che ha colpito l'hotel Rigopiano, mercoledì scorso rimangono ancora 13 le persone disperse, 11 quelle tratte in salvo, dunque sono arrivati a 10 corpi recuperati dalle macerie dell'hotel e trasportati all'obitorio dell'ospedale di Pescara dove negli ultimi giorni sono già transitate 5 salme poi restituite ai familiari. Dopo gli accertamenti medico-legali e l'identificazione si passa alla fase più delicata delle comunicazioni ai familiari da parte delle autorità. A presidiare la sala in cui è stato allestito il punto di raccolta dei parenti ci sono le forze dell'ordine. Resta da trasferire nel capologo adriatico il corpo della sedicesima vittima di sesso femminile recuperata nel pomeriggio dai soccorritori. Sono transitate presso l'obitorio di Pescara 5 salme già restituite alle famiglie. In questo momento sono presenti altre 10 salme di cui una già identificata e le altre in corso di identificazione. Lo ha rivelato qualche ora fa il direttore sanitario dell'ASL di Pescara, Rossano di Luzio, nell'ultimo bollettino medico sulla tragedia appunto dell'hotel Rigopiano. E adesso rimaniamo sempre su questa tragedia ma ci spostiamo a parlare di chi ce l'ha fatta. I ragazzi stanno rispondendo a tutte le domande, sono provati, non stanno tanto bene. Lo ha detto Sebastiano Galassi, il papà di Giorgia, una delle superstiti di questa tragedia che insieme al fidanzato Vincenzo Forti, anche lui sopravvissuto dalle 9.30, sono al comando provinciale dei carabinieri di Pescara per essere ascoltati. Stanno ricostruendo tutte le fasi, ha aggiunto il papà di Giorgia che ha accompagnato i due ragazzi a Pescara. Preferisco però non aggiungere altro per rispetto degli inquirenti. Il servizio è di Francesca Aromana Testi. È iniziato alle 9.30 l'interrogatorio di Giorgia Galassi, la 22enne di Giulianova portata in salvo insieme al suo fidanzato Vincenzo Forti, entrambi dimessi ieri dall'ospedale civile di Pescara. Il primo interrogatorio era avvenuto proprio all'interno del presidio ospedaliero, come nel caso di Giampiero Parete, il cuoco che lanciò la richiesta di aiuto dall'esterno dell'hotel. I due ragazzi sono stati accompagnati alla caserma del comando provinciale di Pescara dal papà della ragazza e dal legale, lanciando già da ieri un appello alla stampa circa la scelta di restare in silenzio e rivolgendo un pensiero a tutte le famiglie dei dispersi e alle vittime. A farsi portavoce davanti alle telecamere, il difensore Pierangelo Guido Baldi. L'esame dei ragazzi è ancora in corso, è molto articolato, molto lungo. I ragazzi probabilmente hanno risentito della particolarità dell'incontro, per cui ci sono state delle emozioni molto forti. Sono in corso indagini davvero delicate, questo mi pare che sia stato sottolineato anche dagli ottimi magistrati che stanno seguendo l'inchiesta, per cui attendiamo con esito sereno gli sviluppi dell'inchiesta. Tutto qui. Un lungo interrogatorio, quello davanti ai carabinieri, in una situazione che punta ad accertare tutta l'evoluzione dei fatti, in marito ad un'inchiesta incentrata sull'accusa di disastro colposo e omicidio plurimo colposo. Nessuna indiscrezione sulle dichiarazioni dei due ragazzi che, vista l'attenzione mediatica sul caso, vogliono evitare fuga di notizie. Ancora provati entrambi e costretti, nonostante tutto, a ripercorrere quei momenti di dolore. Hanno raccontato che si sono fatti forza l'un l'altro, ecco questo lo posso dire. Sono stati dimessi dall'ospedale di Pescara Edoardo Di Carlo di 9 anni e Samuel Di Michelangelo di 7 anni, superstiti della tragedia dell'hotel Rigopiano. Il primo ha perso entrambi i genitori, morti sotto le macerie dell'albergo, mentre quelli del secondo sono ancora tra i dispersi. I bimbi in buone condizioni di salute ieri avevano espresso il desiderio di restare ancora qualche ora nel reparto di pediatria, poi oggi hanno lasciato l'ospedale. Edoardo è stato affidato ad un fratello maggiorenne ed è andato via con i parenti, mentre Samuel ha lasciato la struttura sanitaria insieme ai nonni. Mentre Edoardo è stato informato della morte dei genitori, Samuel a quanto appreso sa che la madre e il padre sono in ospedale feriti. Ieri il direttore sanitario di presidio Rossano Di Luzio aveva osservato, credo che Samuel stia ancora aspettando i suoi genitori. Nei giorni di ricovero i bambini sono stati assistiti dai medici e dal personale della pediatria con il supporto degli psicologi della ASL. I due bambini sopravvissuti sono stati i protagonisti di una videochiamata con il calciatore della Juventus Paolo Di Bala. A organizzare l'incontro virtuale è stato uno degli psicologi che ha assistito i bimbi nel reparto di pediatria. L'attaccante argentino li ha anche invitati a Torino lasciando estremamente contenti i due bambini. I genitori di Edoardo, come detto, sono morti nella tragedia dell'hotel, mentre quelli di Samuel fanno parte dei 13 ancora dispersi. Ed ora andiamo ad ascoltare una delle diverse telefonate che il pomeriggio del 18 gennaio Quintino Marcella ha effettuato chiedendo aiuto dopo aver raccolto l'SOS da Farindola. Intanto prosegue il lavoro della magistratura che sta raccogliendo tutti i dati per valutare eventuali responsabilità nel disastro dell'hotel Rigopiano. Alfredo Primante. Diciamo una cosa, Rigopiano è molto grave, è crollato tutto l'albergo. È crollato l'albergo a Rigopiano? A Rigopiano. Ma quale albergo c'è lì? L'hotel Rigopiano? Quello molto famoso, io c'ho il mio cuoco, io chiamo da figlia adesso, mi è riuscito a farmi un escorso e c'è da Rigopiano, c'è i bambini piccoli di 6 anni, c'è venuta lì con la moglie e qui c'è i bambini piccoli in questo albergo e adesso è sparito lì l'hotel, non c'è più l'hotel Rigopiano. Tenga presente che le mie notizie sono accreditate, capite? Io sono successo, però per la morire, qualche elicottero, capite? Con l'elicottero la cosa può andare. Ha spettito il numero, lo provo qui sul nostro. Allora guarda che è che riesco un po' invenzione, capite? Faccia con calma, faccia con calma, adesso verifichiamo tutto quello che lei mi sta dicendo. Va bene, ora li provo a ripassare penne, intanto lei gli dica quello che è successo. Agli atti dell'inchiesta che sta conducendo la procura di Pescara sulla tragedia di Rigopiano c'è anche questa telefonata tra il centralino del 112 Quintino Marcella e il ristoratore di Silvi che ha risposto alla chiamata di SOS del cuoco pescarese Giampiero Parete pochi secondi dopo la valanga. La procura di Pescara ieri ha chiarito che al momento i ritardi nelle comunicazioni e nell'avvio dei soccorsi quantificati in circa un'ora non sono ritenuti influenti ai fini di stabilire eventuali responsabilità. Il fascicolo Rigopiano resta a carico di gnoti ma presto potrebbero esserci i primi indagati. Il lavoro del PM Andrea Papalia coordinato dal procuratore Cristina Tedeschini prosegue su diversi fronti. I permessi che hanno consentito la costruzione del primo edificio nel 1967 e poi le successive ristrutturazioni fino all'ultima del 2007. L'allerta valanga diramata dal servizio Meteomont e soprattutto la viabilità sulla strada che conduce all'hotel il giorno della tragedia completamente sommersa dalla neve. Quella strada per l'ultima volta era stata pulita attorno a luna di martedì. Poi più nulla nonostante gli appelli del proprietario dell'albergo e le mail inviate agli enti locali. I soccorritori, proprio a causa dell'impossibilità di salire a Rigopiano con i mezzi meccanici, hanno impiegato a piedi circa nove ore per raggiungere l'hotel e iniziare le ricerche. La domanda è se quelle nove ore di attesa siano state decisive per le sorti di eventuali superstiti del crollo. Sulla in concreto efficacia del conseguente azione di soccorso, al massimo balla un'ora, cioè avete visto voi tutti quanto tempo ci vuole per arrivare lì, quanto tempo ci vuole per capire dove è stato sepolto un intero albergo, perché quell'albergo è stato sepolto. Quindi ecco, capito, dal punto di vista poi dell'efficacia reale e causale lo dirà l'inchiesta. Da questo punto di vista, spiegato ieri nella conferenza stampa il procuratore di Pescara, è stato importante anche il sopralluogo effettuato dai magistrati a Rigopiano domenica mattina, che ha contribuito a restituire agli inquirenti la dimensione della sciagura. Non è stato però un sopralluogo tecnico. Il sopralluogo in senso tecnico è quando la procura della Repubblica va lì accompagnata normalmente da polizia giudiziaria e fa rilevazioni, reperta, fa questo e fa quest'altro. Vi dico che certamente aver fatto il giro di questo hotel sepolto, essere andate dietro, avere visto il canalone dove finisce, avere visto questo fronte immenso con gli alberi si rasi al suolo completamente, si vede per differenza perché c'è il bosco. Sicuramente mi ha restituito una maggiore consapevolezza. Il geologo terramano Leo Adamoli, tra i principali studiosi dei monti di Farindola, spiega il perché il rischio valanga in quel luogo non è mai stato segnalato da alcuna carta geomorfologica. Inoltre il terreno sul quale è stata costruita la struttura ricettiva era un conoide di detriti, ma per Adamoli era solido nel sottosuolo. Si sarebbe trattato dunque di una imprevedibile concentrazione di eventi negativi che ha portato al disastro. Tania Bornici-Castelli Nessuna delle carte geomorfologiche dell'Italia redatte nel 1963 e poi quelle successive dell'Abruzzo segnalava o segnala il rischio valanga nella zona dove invece una valanga spaventosa ha sepolto l'hotel Rigopiano. Il geologo terramano Leo Adamoli è stato tra i primi studiosi del luogo con risultati pubblicati nella sua tesi di laurea del 1971 all'Università di Bologna sulla geologia dei monti di Farindola. Anche per lui la valanga non era ipotizzabile e inoltre il terreno sul quale è stata costruita la struttura, per quanto costituito da uno strato di detriti, era solido. Sulle carte della regione Abruzzo non viene segnalato il rischio valanga nella zona dell'albergo di Rigopiano, ma è giusto questo? Sì, è giusto perché anche io l'ho verificato in oltre mezzo secolo e frequento quella zona, iniziare dalla tesi di laurea all'inizio anni 70 e lì non ho mai assistito ai fenomeni valanghivi proprio in quella zona. Le carte fatte redigere dalla regione Abruzzo, per esempio la carta dell'Aquater e poi anche dal piano di assetto idrogeologico, in quella zona non vengono indicati fenomeni valanghivi, assolutamente. Vengono invece indicati nelle zone limitrofe, per esempio nella zona del Gravone, si trova poco prima lungo la strada di Rigopiano-Castelli o anche poco più a sud, ma proprio in quella zona non vengono indicati canali valanghivi o fenomeni valanghivi. Ma è vero che questo albergo è stato costruito sui detriti di una vecchia valanga? No, in quella zona c'è un piccolo conoglio alluvionale, che anch'io cartografiai ai tempi della tesi di laurea nel 71-72, un piccolo conoglio alluvionale, una copertura detritica, come esistono ai piedi di tutte le montagne di tutto il mondo, cioè ci sono colti detritiche, conoglio alluvionale o colti detritiche, eccetera, e lì la zona dell'albergo è situata proprio al confine, proprio sulla punta di questa piccola conoglio detritica. Quindi secondo lei non si poteva assolutamente prevedere questa valanga? No, diciamo che questa valanga si è verificata in condizioni del tutto imprevedibili, perché c'era stato un lungo periodo in cui praticamente il manto nevoso non c'era assolutamente. Mi dicono anzi che poco prima dell'ultima nevicata in alcuni punti affiorava il manto erboso. Secondo lei sarà ripensata la carta geomorfologica dell'Abruzzo? Ma io direi che a questo punto, siccome le condizioni atmosferiche, stiamo parlando di clima, variazioni climatiche, eccetera, noi abbiamo intanto per quanto riguarda la piovosità, abbiamo a volte lunghi periodi di siccità e poi le cosiddette bombe d'acqua, improvvise bombe d'acqua e stanno creando un mare di danni, fenomeni franosi dappertutto, colate detritiche, eccetera, cose che magari in passato si verificavano molto raramente. E così anche per quanto riguarda le precipitazioni nevose. Quindi è chiaro che forse è opportuno individuare quelle zone dove potenzialmente si possono creare fenomeni varanghivi importanti e quindi tenerne maggiormente conto rispetto al passato. Quello che è successo a Rigopiano per Adamoli è il risultato della più terribile concentrazione di coincidenze negative. Un manto nevoso di 4 metri che si è depositato in poche ore sul terreno erboso e subito dopo sollecitato da un forte terremoto troppo incredibile per poterlo prevedere. E a Farindola e a Penne oggi è stato il giorno del lutto per l'ultimo saluto a due delle prime vittime recuperate dalle macerie dell'hotel Rigopiano. Il Metr e uno dei camerieri dell'albergo, Alessandro Giancaterino e Gabriele D'Angelo. Il servizio è di Paolo Renzetti. Mentre a Rigopiano proseguono incessantemente le operazioni di soccorso, a Farindola e Penne si sono tenuti questa mattina e nel primo pomeriggio i funerali di Alessandro Giancaterino e Gabriele D'Angelo, due delle vittime della valanga killer di mercoledì scorso all'hotel Rigopiano. Dolore composto per i parenti dei due giovani che sono stati fra i primi ad essere estratti senza vita dall'albergo cancellato dalla furia della neve. A Farindola il parroco della chiesa di San Nicola Vescovo, Don Andrea, nella sua omelia, ha detto che tanta umanità è una risposta, la condivisione del dolore, l'esserci. Nostro fratello Alessandro non è perduto perché, nell'amore di Dio, alle sequie del Metre dell'hotel hanno preso parte, fra gli altri, il viceministro dell'interno Bubico, il presidente della regione Luciano D'Alfonso ed il prefetto di Pescara, Francesco Provolo. Appenne nel primo pomeriggio, alle sequie del 31enne Gabriele D'Angelo, tutta la città vestina si è stretta al fianco della famiglia della vittima. Non è mancato un pensiero per la sciagura aerea della tarda mattinata nell'Aquilano, in cui hanno perso la vita sei persone. I volontari della Croce Rossa si donano generosamente, pagano un prezzo altissimo, come vediamo, per l'elicottero caduto del 118 nell'Aquilano. Queste le parole pronunciate dal parroco della parrocchia di San Massimiliano Colbe, Don Venanzio. Le nuove rassicurazioni arrivano sulla situazione della diga di Campo Tosto, dopo il vertice di ieri al Ministero per le Infrastrutture. Daniela Rosone. Diga di Campo Tosto, osservata speciale, ma al momento non esistono delle criticità, anche se la situazione è monitorata sempre. È quanto emerge dall'incontro di ieri pomeriggio al Ministero dei Trasporti a Roma, incontro convocato dal Ministro Graziano Del Rio con i vertici della protezione civile, con le regioni e con i gestori delle grandi dighe che sono localizzate nelle zone sismiche. L'incontro ha consentito di fare un punto della situazione rispetto ai controlli e alle misure adottate dopo le scosse sismiche del 24 agosto e 30 ottobre 2016 e rispetto alla più recente del 18 gennaio. E gli enti gestori, in particolare Enel, per quanto riguarda le dighe di Campo Tosto, hanno confermato che non sono state evidenziate criticità, sia nei controlli ordinari, sia in quelli scattati, come la procedura, dopo i terremoti recenti. La riunione è stata presieduta dal Ministro Graziano Del Rio con Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento Protezione Civile, Gabriele Scarascia Mugnozza, Vicepresidente della Commissione Grandi Rischi. Campo Tosto è un impianto importante. La diga già dopo il sisma del 2009 era stata oggetto di valutazioni. Esiste una procedura che dopo ogni sisma richiede controlli e questo è avvenuto ogni volta. L'allarme generato da alcune dichiarazioni del Presidente della Commissione Grandi Rischi si ricordano che il problema esiste e che si deve continuare a tenere sotto osservazione questa criticità. Queste invece sono dichiarazioni del Direttore dell'Ufficio Emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Titti Postiglioni, che si trova alla Dicoma Carrieti. In linea teorica, se si dovesse svuotare velocemente, questo comporta effetti importanti, ma è uno scenario di riferimento e, come ha detto la Commissione, non si tratta di un allarme immediato. Enel ha inteso procedere con un ulteriore svuotamento dell'invaso nell'ambito di questo contesto emergenziale, ha detto la Postiglione. Anche all'Aquila oggi si è parlato della diga di Campo Tosto, osservata speciale in una riunione tecnica, convocata negli uffici del Ministero all'Aquila. Restaranno chiuse almeno fino a sabato le scuole nel comune di Teramo, compresi asili e scuole materne. Una chiusura prolungata, motivata dalla necessità di portare a termine tutti i controlli post-sisma. A firmare l'ordinanza, questa mattina il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, che ha emanato un'ordinanza con cui dispone la sospensione delle attività didattiche da domani fino a sabato. Le scuole erano state chiuse fin dalle prime nevicate, le quali si sono aggiunte poi le scosse di terremoto e l'emergenza elettrica e non sono mai state riaperte. Intanto nel Teramano sono ancora 4.000 le utenze senza elettricità. La Procura, dopo le numerose denunce presentate contro Enel da sindaci e numerosi cittadini, ha creato un gruppo di lavoro per ricostruire cose accadute prima della fase emergenziale e valutare le eventuali responsabilità. Elisa Leuzzo A una settimana dalla intensa nevicata che ha interessato l'intero territorio abruzzese sono ancora migliaia le persone rimaste senza corrente elettrica. Solo nel Teramano sono 4.000 le utenze senza elettricità. La Procura di Teramo, guidata da Procuratore Antonio Guerriero, ha creato un gruppo di lavoro per valutare le denunce, ricostruire cosa è accaduto prima della fase emergenziale e fare chiarezza su ruoli ed eventuali responsabilità. Il fascicolo è stato aperto dopo le denunce presentate contro l'Enel dai diversi sindaci della provincia e da numerosi cittadini alle prese con i blackout elettrici. La mancanza di elettricità, spesso, è stata provocata dal crollo delle linee elettriche. Secondo l'associazione Codici, i danni potevano essere limitati se vi fosse stata un'adeguata azione preventiva e di manutenzione. Dalle prime notizie emerge infatti una grave responsabilità della società nell'interruzione della corrente elettrica avvenuta principalmente non a causa delle forti nevicate ma a causa degli alberi che si sono abbattuti sulle linee elettriche e che non dovevano essere nelle loro vicinanze. Inoltre, la difficoltà di arrivo dei mezzi alle centrali sul territorio è causa della inadeguata manutenzione delle aree di accesso. Infine, evidenzia l'associazione che tutela i diritti dei cittadini, anche l'attività in emergenza è stata totalmente inadeguata rispetto ad un evento ampiamente annunciato per il quale l'Enel avrebbe messo a disposizione poche squadre di pronto intervento locali con un'adeguata conoscenza del territorio. Il sindaco di Mociano Sant'Angelo, Giuliano Galiffi, che già da giovedì scorso ha presentato un esposto in procura, denuncia l'atteggiamento scorretto dell'Enel che anziché dare risposte ai cittadini e risolvere i problemi avrebbe rimbalzato il problema sull'amministrazione comunale. Il primo cittadino di Notaresco, Diego Di Bonaventura, così come il sindaco di Montori Alvomano, Gianni Vicenta, si dice pronto a presentare un esposto e una richiesta di risarcimento danni appena finita l'emergenza. Ora penso all'emergenza e risolvere i problemi della gente, ha dichiarato il sindaco. Quello che è successo è veramente scandaloso. Il sindaco di Montori Alvomano, inoltre, denuncia il sistema inadeguato di rifornimento dei generatori allacciati dall'Enel per rifornire le zone rimaste senza elettricità. Dopo qualche ora di produzione di energia elettrica, denuncia il primo cittadino, i generatori si spengono per mancanza di carburante. Le ditte che dovrebbero occuparsi del rifornimento non lo effettuano a scadenze regolari, ma solo se preventivamente avvisate. Dopo i controlli sono tornati sui banchi di scuola gli studenti di Chieti. In qualche istituto ci sono ancora dei problemi dovuti soprattutto alla mancanza di energia elettrica. Fra tante brutte notizie c'è una bella notizia che riguarda la riapertura di tutte le scuole cittadine. Sì, abbiamo riaperto tutte le scuole, ma non perché siamo stati graziati dal Signore, ma perché durante tutta la settimana abbiamo fatto in modo che vi fossero controlli continui. Questo non esclude che si possano verificare dei problemi, perché da un mese le scuole comunque sono chiuse, nonostante io abbia fatto accendere gli scaldamenti per tempo, quindi già dalla scorsa settimana, questo non implica che non ci possa essere l'evento straordinario, l'imprevisto che possa mandare in blocco le caldaie. Laddove è successo e dove c'erano delle solerti, evidentemente operatrici, è stata immediatamente allertata la ditta e sono state immediatamente riavviate le caldaie. Non mi risulta al momento che ci siano scuole che sono state al freddo o abbiano riaperto al freddo. Quindi questa è la cosa più importante. Poi è evidente, dobbiamo farla conto anche dei danni sulle strutture comunali, quindi anche sulle scuole. E non va dimenticato che il blackout ha colpito anche le scuole, e quindi anche quelle caldaie che non è stato possibile riavviare prima perché erano prive di energia elettrica. Passiamo adesso alla pagina dello sport, parliamo di Serie D, perché domani ci saranno i recuperi per due delle nostre squadre abruzzesi. il big match al Recchioni di Fermo tra la Fermana e il San Nicolò. Campobasso Pineto invece si giocherà ad Isernia, ulteriormente rinviata la partita tra Avezzano e Vivi Alto Tevere Sansepolcro, partita che si recupererà il prossimo, primo febbraio. Pineto e San Nicolò in campo per il recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie di Girone F. Il clou della giornata di recuperi sarà di certo al Recchioni di Fermo, dove i biancazzurri di Massimo e Epifani dopo più di un mese di pausa forzata se la dovranno vedere contro la capolista fermana di Flavio Destro, che proprio domenica ha battuto la Civitanovese confermando una leadership che la vede a quota 38 punti in classifica. Per il San Nicolò sarà una ripartenza già con parecchie insidie, ma ci sono i 14 risultati utili consecutivi da cui ricominciare e a dare manforte agli abruzzesi. Una gara, quella di Fermo, già rinviata due volte a causa del maltempo che ha martoriato la nostra regione e che ha creato disagi anche nelle vicine marche. Nel frattempo la squadra di Epifani ha cercato di tenere il ritmo partita disputando cinque test amichevoli. Out di Benedetto, uno degli ultimi arrivati, così come Zetti. Ancora qualche dubbio per il tecnico, specie nel reparto offensivo. Trasferta a Molisana ma a Disernia per il Pineto nella gara contro il Campobasso. Sfida spostata di qualche chilometro, anche qui per le condizioni del nuovo Romagnoli e allora si vira verso il Lancellotta. Classico appuntamento per i pinetesi in cui un risultato positivo potrebbe dare ulteriore linfa ad una rincorsa alla salvezza che non può prescindere da un 2017 fatto ad alta intensità. Discorso identico per i lupi molisani, con novelli sulla graticola e che se dovesse fallire l'impegno potrebbe saltare. Rinviato ulteriormente invece la gara tra Avezzano e Vivi Alto Tevere Sansepolcro. Le condizioni del De Marsi non consentono di disputare il recupero e la partita sarà rigiocata il prossimo primo febbraio. Ma i bianco-verdi di Tortora saranno di scena sul terreno amico già domenica quando arriverà l'Alba Longa. Adesso una notizia appena battuta dall'agenzia ANSA e torniamo a Rigopiano perché il corpo di una donna è stato estratto dalle macerie dell'hotel Rigopiano poco fa dai vigili del fuoco. Dunque sale a 17 il numero delle vittime della valanga. Sono 11 i sopravvissuti, sono ancora tanti i dispersi. Però vi ripetiamo l'ultima notizia appena battuta dall'agenzia ANSA. Il corpo di una donna è stato estratto dalle macerie dell'hotel Rigopiano poco fa dai vigili del fuoco. Dunque bilancio sempre più funesto. Arriva a quota 17 vittime. Torniamo a parlare di sport, parliamo di pallannuoto perché il Pescara conquista il primo punto nel massimo campionato femminile pareggiando in casa con la SIS Roma per 8 a 8. Per le ragazze del neo allenatore Gobbi è un risultato che fa morale in vista del delicato scontro diretto con Bologna nella prossima giornata. Paolo Sinibaldi. È arrivato il primo punto per il Pescara a pallannuoto in Serie 1 femminile alla settima giornata. Pescara a pallannuoto, SIS Roma, 8 a 8. Questo è il risultato. Nel finale c'è stato il grande colpo d'orgoglio della tua squadra ma forse ti aspettavi di più. Hai sintetizzato bene un po' il mio pensiero. È chiaro che quando sei sotto di due gol all'ultimo tempo è sempre difficile pensare di poterla vincere la partita. Quindi la prova d'orgoglio dell'ultimo tempo è sicuramente la cosa migliore che c'è stata e fa ben sperare per il futuro. Probabilmente prima potremmo fare qualcosa di meglio per incanalare la partita in un modo diverso. Non ci siamo riusciti. Quindi ci proveremo a migliorare ulteriormente la situazione perché secondo me è assolutamente migliorabile. Questa è la cosa che mi dà più fiducia per il resto del campionato. C'è una buona situazione fisica e c'è una buona situazione mentale di orgoglio e tutto. Quello che aveva migliorato, il compito è assolutamente mio, è tutta la parte tattica perché c'è stato in alcuni momenti della partita molta confusione e soprattutto in attacco. Ma è chiaro che non si può pensare in poco tempo di risolvere tutto. Con il portiere del Pescara Pallannuoto Divina, Nigro, non era una partita facile contro una squadra sulla carta più forte del Pescara perché la siste era al quarto posto in classifica. Un punticino che fa ben sperare. Un punto importante anche perché eravamo un po' bloccate in questa situazione, ultime in classifica. Certo, la classifica adesso sembrerebbe non migliorare però la prossima settimana abbiamo una partita veramente importante. Contro il Bologna, diciamolo, contro un avversario diretto. Un avversario diretto per la salvezza, è un punto che sicuramente può essere da stimolo per quella che sarà la prossima partita in cui ci giochiamo fondamentalmente il nostro campionato. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie. 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 Grazie.